Gesù e Maria state per assistere amici carissimi a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione se possibile ovviamente al termine della visione mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo queste piccole operazioni non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale fatelo ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime quanto state per ascoltare io vi benedica e la santa vergine vi protegga Laudentur Iesus et Maria amici carissimi bentornati o benvenuti a questa nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al mistero di Giuda questo è l'episodio numero 33 vediamo subito il titolo di questo episodio che si chiama e riceve una lezione dal discepolo ultimo arrivato un momento critico per Giuda e Iscariota il capitolo non è molto lungo e quindi possiamo passare alla lettura perché forse riusciremo anche a fare il seguente perché ripeto il materiale non è tantissimo dipende tutto dagli spunti di sollecitazione e di riflessione che arriveranno dalla lettura parto subito con essa riceve una lezione dal discepolo ultimo arrivato la successiva sosta del viaggio verso Gerusalemme è nella pianura di Esdredon per dare un conforto e offrire un ristoro agli sventurati contadini di Giocana e di Doras figlio di quel Doras fulminato dalla giustizia divina all'acqua speciosa questi pori disgraziati, faccio una piccola parentesi guardate che se si leggono gli scritti sono una rappresentazione della cattiveria e prudeltà e inumanità che c'è nel cuore dell'uomo cose che fa sempre molto molto male vedere quando l'essere umano si accannisce in quel modo disumano contro il proprio simile io sarà che sono un pochino sensibile ma insomma la disumanità è una cosa che fa sempre molto male insomma vedere come trattavano sti pori disgraziati botte, nerbate, senza mangiare, senza bere, a dormire in tuguri rappresentazioni veramente poco edificanti fornite dall'essere umano un'altra attestazione del nostro stato di decadenza purtroppo sic est amici cari e questo purtroppo è lo spettacolo di certi rappresentanti della razza umana comunque sentite quei poveretti rivolano nella parola il cibo da tanto sconosciuto quindi digiuno lavorare come schiavi punto e digiuno ringraziate quest'uomo dice Gesù accennando all'uomo di Endor è lui che ha procurato l'agnello il resto fu facile averlo vi è uno piuttosto vecchio che si stringe al fianco un fanciullo di un dieci anni circa mangia e piange perché padre fai così? chiede Gesù perché la tua bontà è troppa l'uomo di Endor dice con la sua voce culturale è vero e fa piangere ma il pianto è senza amaro è senza amaro è vero e poi io vorrei una cosa è anche desiderio questo pianto che vuoi padre? questo fanciullo lo vedi? è mio nipote mi è rimasto dopo la frana di questo inverno Doras neppure sa che mi ha raggiunto perché lo faccio vivere come una bestia selvatica nel bosco e solo al sabato lo vedo se me lo scopre o lo caccia o lo mette al lavoro e sarà peggio di un animale da solma questo tenero mio sangue a Pasqua lo manderò con Michè a Gerusalemme per divenire figlio della legge e poi è il figlio di mia figlia lo daresti a me invece? dice Gesù non piangere ho tanti amici che sono onesti santi e senza figli lo alleveranno santamente nella mia via oh signore da quando ho saputo di te l'ho desiderato e pregavo il santo Giona lui che sa cosa è essere di questo padrone di salvare il mio nipote da questa morte fanciullo dice Gesù verresti con me? sì mio signore e non ti darò dolore è detto ed è così che al seguito del gruppo apostolico oltre all'uomo di Endor Giovanni già felice è cambiato il nome troviamo un fanciullo di nome Iabe che sarà cambiato in Marziam questo Marziam diventerà poi uno dei piccoli protagonisti dell'opera è rimasto orfano e solo per aver perduto entrambi i genitori con i fratellini sepolti da una frana di Emmaus Simon Pietro gli si mostra particolarmente affezionato vedete come sti cambi di nome no? Felice Giovanni Iabe Marxian i famosi cambi di nome un tempo tutti i religiosi cambiavano nome adesso molti non lo fanno più l'unico che cambia il nome adesso è il Papa quando viene eletto che si sceglie il nome questo è rimasto un tempo quando si battezzavano gli adulti e si sceglieva il nome di Battesimo che spesso era diverso dal nome reale è rimasta una via consuetudine una via tradizione per esempio per chi fa la consagrazione Monfortano la Madonna aggiungere al proprio nome di Battesimo il nome Maria un tempo oggi non viene fatto più quasi da nessuno io lo ricordo per esempio i genitori quando vengono a chiedere il Battesimo si mettevano più nomi di Battesimo io ho i miei registri qui c'è un archivio questa è una parrocchia molto antica che ha mille anni di vita una volta uno mi chiese di andare a cercare non so cosa scartabella nei registri del 1600 del 1700 scritti a mano è difficile decodificarli ho visto alcuni atti di Battesimo c'erano 8 9 o 10 nomi di Battesimo Leonardo, Francesco, Nicola Giovanni Andrea Massimo 10 nomi quindi sono rimasto scioccato perché facevano queste cose? perché allora credevano vivamente che più nomi metti al battezzando più santi ci sono che stanno pregando per lui queste come tante altre cose ci andiamo a fare il monumento capito? ai caduti quindi le memorie storiche i musei chiaramente non ho parole guardate ecco il grande valore della tradizione con la T maiuscola la tradizione è la consegna delle cose sante perché siano ritenute conservate le cose che io credo momentaneamente sono andate perdute dentro la chiesa cattolica tesori tesori adesso disprezzati perché c'è questa per me proprio intollerabile e assurda prosopopea dell'uomo moderno contemporaneo in tutte le salse e forme di pensare che ecce nos siamo arrivati noi abbiamo capito tutto e possiamo liquidare tutto il passato come roba da gente incolta ignorante religiosetta da quattro soldi ma un'altra delle tante cose in cui la mia pochezza purtroppo io non sono certo un campione di umiltà così come di nessun'altra virtù ma ci picchia come dinanzi a certe cose dico come non rendersi conto che questa è intollerabile superbia ma chi ci crediamo di essere ma poi non ho parole io dico è possibile che un cristiano che apre il registro del battesimo e legge le cose del XVII secolo ma non se ne fa qualche domanda lo diceva vabbè facevano così adesso facciamo con la pazienza va bene proseguo la lettura per non tediare insomma con queste mie amare considerazioni il cielo è a pioggia e Pietro mi pare un'enea capovolto perché il luogo di portare via il proprio padre ha sulle spalle il piccolo Iabe tutto ricoperto del mantellone di Pietro la testolina si vede emergere sopra il capo canuto di Pietro che ha le braccia del piccolo intorno al collo e che ride diguazzando nelle pozzanghere se la poteva risparmiare questa bronto l'ariscariota nervoso per l'acqua che viene dal cielo che schizza sulle vestite al suolo eh si potrebbero risparmiare tante cose e risponde Giovanni di Endor fissando con il suo unico occhio che credo veda per due il bel Giuda che vuoi dire voglio dire che è inutile pretendere che gli elementi abbiano riguardo per noi quando noi non ne abbiamo con i nostri simili è in materia ben più grave che non siano due gocce d'acqua o uno spruzzo di fango è vero e ribatte Giuda ma a me piace entrare in città ordinato pulito ho molte amicizie io e in alto attento allora di non cascare mi stuzzichi no ma io sono un vecchio maestro e un vecchio scolaro da quando vivo imparo prima ho imparato a vegetare poi ho osservato la vita poi ho conosciuto l'amarezza della vita ho esercitato una inutile giustizia quella del solo contro Dio e contro la società Dio mi ha castigato con il rimorso la società con le catene perciò il giustiziato in fondo sono stato io infine ora ho imparato sto imparando a vivere ora essendo maestro e scolaro tu capisci che mi viene naturale di ripetere le lezioni amici se mi posso permettere scusate un po' questi pit stop un po' frequenti questa sera ti c'è una frase che sto imparando a vivere domanda spontanea e prima cos'è vivere si può imparare a vivere quindi vuol dire che si può vivere una vita senza vivere perdonate il gioco di parole ci proviamo a pensare un po' ci siamo mai chiesti se io sto vivendo veramente ci sono molti modi per per concepire questo questa cosa per esempio una persona che non pensa che non si rende protagonista delle loro scelte di vita che si lascia condurre d'accordo con una pecola con una pecola del greggio oggi lo chiamano il mainstream quindi sta tutto quanto con il cervello settato programmato sulla base di certe frequenze sulla base di certi cliché che accetta pedisseguamente che li dà per buoni scontati senza farsi nessuna domanda senza una persona di questo genere secondo me vive la vita sua io credo di no io credo di no oggi siamo purtroppo circondati da una montagna di realtà abbastanza pericolose che possono inibire l'uomo da vivere la vita sua dall'essere noi come dovremmo gli artefici e protagonisti consapevoli delle nostre scelte però per fare questo bisogna fare una grande fatica a migliorare la fatica di vivere e molto spesso gli esseri umani cercano qualcuno che faccia questa fatica al posto proprio delegando io questo lo dico anche da sacerdote quante volte ho detto e ridetto e ridico molte persone cercano da sacerdote nel brackets padre spirituale sapete chi uno che gli dice tutto quello che deve fare quindi uno che praticamente io vabbè siccome non so bonabile non so orizzontale non so allora chiappo uno lo auto investo di un'autorità quasi divina per carità in parte ha in un certo senso un'autorità divina non è il padre eterno in terra quindi io delego a lui mi deve dire tutto quello che devo fare io ho conosciuto gente di questo genere poi mi dice una cosa la faccio per obbedienza quindi c'è l'obbedienza quindi obbedendo a lui sto tranquillo e sto tranquillo e riparo l'ho avuto da tutti anche quando magari qualcuna di queste tra virgolette obbedienze a me non è che mi convince poi l'ho trovato sopra ah vabbè me l'ha detto lui quindi lo faccio punto e basta e la cosa più grave quando accadono queste cose è che si pensa anche di essere sulla strada della vera santità non voglio mettere agitazione e confusione però pensiamoci a queste cose è chiaro che i cicli di catechesi non sto dicendo che non va bene fare la direzione spirituale ma bisogna vedere come si fa la direzione spirituale perché il direttore spirituale deve imparare a fare direzione spirituale come la fa domine Dio perché noi abbiamo anzitutto un grande direttore spirituale non ti chiamolo mai che è domine Dio il quale non ci dirige come vorremmo essere diretti ma ci siamo chiesti perché Dio non ti dice non ti mandano non ti appare e non ti dice chiaramente tutto quello che devi fare cioè te lo spiega te fa pure un disegno guarda nella tua vita nella tua circostanza di vita nella tua situazione devi fare così 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 sarebbe più semplice ma dimmelo signore tu me lo dici e poi lo faccio no? lo faccio volentieri se qualcuno ha avuto esperienze di questo genere dopo la diretta intervenga scriva faccia qualcosa faccia una pubblica testimonianza lo dica Dio fa così? no Dio non fa affatto Dio parla sempre in maniera misteriosa parla per segni parla a volte per enigmi per input per simboli per sollecitazioni sempre avvolto e vi siete chiesto perché fa così? perché non ci dice tutto subito? perché se facesse così sapete che succede? che tu non vivi non vivi Dio vuole che noi facciamo quello che vuole noi ma che facciamo la fatica di discernerlo di conoscerlo di sceglierlo consapevolmente di metterlo in pratica di perseverare una messa in pratica un buon direttore spirituale aiuta la persona a fare queste cose non gli dice quello che deve fare no lo attrezza e lo abilita dando gli criteri di discernimento e gli strumenti per imparare a conoscerlo d'accordo? certo qualche volta può dare anche qualche consiglio concreto pratico con moderazione però sempre intervenendo su una base della persona questo non vivere sarebbero molte altre cose da dire però pensiamoci e chiediamoci io sto vivendo punto interrogativo perché vivere non è la stessa cosa che avere attive le funzioni biologiche noi non possiamo sotto questo punto di vista non vivere però sapete che si dice anche no? che razza di vita sto facendo quello vive quello vive come un vegetale d'accordo? nel senso che mangia beve e dorme ma che cosa sta facendo per la resistenza? siamo noi artefici protagonisti delle nostre scelte delle nostre cose sotto tutti i punti di vista o no? o ci accodiamo o deleghiamo il compito di vivere a qualcun altro credo che siano considerazioni importanti e domande profonde che dobbiamo porci Giovanni di Endor questo personaggio che abbiamo incontrato proprio per la vita abbiamo sentito che razza di vita che ha avuto sentite le puntate precedenti se non avesse sentito un uomo quindi quando si ha una vita così travagliata così anche per certi aspetti quasi maledetta insomma come quella di quest'uomo per accident la stessa cosa che successe anche a Simone Lozzerote oggi è la festa di Simone Lozzerote grande amico di San Giudato a Deo che hanno avuto la sorte poi di finire la vita insieme e di essere martirizzati nello stesso luogo in Persia Simone Lozzerote l'abbiamo già visto in diverse circostanze i saggi di sabienza veramente ispirata che davano non era tra i prediletti di Gesù tra i tre però era sicuramente tenuto in grandissima stima da Gesù perché anche Dio ha avuto una vita parecchio tribolata conoscendo anche il mondo del male conoscendo il castigo di Dio era diventato lebroso pure questo l'aveva conosciuto se l'ha appena detto quindi questo significa che una vita anche passata attraverso le tenebre del peccato dell'errore poi riscattato diventa una grande miniera di di sapienza ora essendo maestro scolaro riprendendo la lettura del testo tu capisci che mi viene naturale di ripetere le lezioni e Giuda obietta ma io sono l'apostolo dovrebbe proprio fare Giovanni ribatte e io sono un disgraziato ah lo so e non dovrei permettermi di insegnare a te ovviamente tu sei l'apostolo ma vedi non si sa mai ciò che si può diventare io credevo di morire onesto e venerato pedagogo in cibo e divenni omicida e ergastolano ma quando alzavo il coltello per farmi vendetta e quando trascinavo la catena odiando l'universo se mi avessero detto che sarei diventato un discepolo del santo avrei dubitato della mente di chi me lo avesse detto eppure tu lo vedi perciò chissà che anche a te apostolo io non posso dare qualche lezione buona per la mia esperienza non per la santità non ci penso neppure a ragione quel romano a chiamarti diogene già ma però diogene cercava l'uomo e non lo trovò io più fortunato di lui ho trovato una serpe dove credevo essere la donna e un cuculo dove vedevo l'uomo amico ma dopo aver vagato per tanti anni reso folle da questa conoscenza ho trovato l'uomo il santo ribatte giuda io non conosco altra sapienza che quella di israele ah se così è hai già di che salvarti ora però è anche la scienza anzi la sapienza di dio è la stessa cosa ribatte giuda altero questo glossa del sottoscritto anche giovanni replica o no non è la stessa cosa la sapienza di dio la sapienza di israele è come un giorno nebbioso rispetto ad uno pieno di sole insomma mi vuoi ammaestrare io non ne ho voglia ribatte giovanni lasciami parlare prima parlavo ai bambini erano svagati poi alle ombre mi maledivano poi ai polli erano già migliori dei due primi molto migliori ora parlo con me stesso non potendo ancora parlare con dio perché me lo vuoi impedire ho mezza vista la vita spezzata dalle miniere il cuore malato da tanti anni lascia almeno che non mi si strelisca la mente Gesù è dio ribatte giuda lo so lo credo dice giovanni più di te perché io sono rinato per sua opera tu no ma per quanto lui sia il buono è sempre lui di dio e il povero disgraziato che io sono non osa trattarlo con la tua familiarità gli parla la mia anima ma il labbro non osa l'anima e penso che egli la senta nei suoi pianti di riconoscente e penitente amore è vero giovanni io sento la tua anima Gesù entra nella conversazione di due giuda arrossisce di vergogna uomo di endor di gioia io sento la tua anima è vero e sento anche il lavoro della tua mente hai detto bene quando ti sarai formato in me molto ti gioverà essere stato maestro e scolaro attento parla parla anche con te stesso una volta maestro e non è molto mi hai detto che è male parlare con il proprio io osserva impertinente giuda è vero l'ho detto ma era perché tu facevi mormorazione con il tuo proprio io quest'uomo non mormora medita e confine buono non fa male insomma ho torto giuda è aggressivo no hai dell'uggia nel cuore ma non sempre può essere sereno i contadini desiderano la pioggia è carità pregare perché essa venga è carità anche questa ma guarda ecco un bel arcobaleno che da ataroth fa arco sul rama siamo già oltre ataroth il triste vallone è superato qui tutto è coltivato evidente sotto il sole che rompe le nubi quando saremo a rama saremo a 36 stadi da gerusalemme là rivedremo dopo quel colle che segna il luogo dell'orrenda libisdine commessa dai gaboiti tremenda cosa è un morso della carne giuda giuda non risponde e si dilunga sguazzando con ira nelle pozzanghe facciamo un'altra sosta prima di venire all'ultima parte dei dialoghi di questa puntata allora comincia a stagliarsi questa splendida figura di giovanni di endro stride con la piccineria la piccolezza proprio anche umana di giuda facciamo attenzione purtroppo a quanto questi suoi modi di essere di pensare di fare ahimè non è che siano tanto poco diffusi ahimè anzi che cosa riprovera giovanni e giuda povero disgraziato che io sono non osa trattarlo con la tua familiarità domanda domanda cosa buona trattare Dio con familiarità intese in un senso certo San Paolo scrive voi siete diventati concittadini dei santi e familiari di Dio noi siamo figli di Dio per il battesimo non siamo estranei possiamo chiamare Dio dice sempre San Paolo Abba padre ma questo giustifica la familiarità intesa in senso non buono qual è il senso non buono è quella modo di fare di riporsi che perde la percezione che certo il verbo si è fatto carne Gesù è diventato un uomo è diventato anche nostro fratello un nostro amico nell'Eucharistia si fa nostro cibo addirittura entra dentro di noi ma non vi sembra che oggi in giro ci sia un po' troppa familiarità a tutti i livelli non ci sembra anche facendo l'esempio dell'Eucharistia che il nostro Signore sia trattato in modo che chiamarlo familiare è ancora andare molto lontani dal dal vero io mi è stato raccontato 15 giorni fa nemmeno da una povera da una santa signora scandalizzata in una parrocchia X di questa diocesi ha partecipato ad una santa messa come dire gazzarra chiamiamola così e ha visto un bambino un bambino che è andato a prendere la comunione ovviamente in mano dopodiché ha preso l'ostia con le manine e prima di mettersela in bocca ha cominciato a leccarla come se fosse un lecca-lecca senza che nessuno leggesse niente né il sacerdote né i diocesi niente questa dell'ostia lecca-lecca ancora non l'avevo mai sentita perché sapete qui oggi abbiamo un bestiario di amenità che ogni tanto nasce fuori una nuova cos'è questa cosa? vediamo cos'è questa cosa? io dico qualcuno come dire rimproverò un po' i sacerdoti che hanno qualche piccola come dire riserva su certi modi di trattare Gesù e Eucharistiano io dico ma fermo restando l'attuale disciplina della Chiesa dico ma ci vuole la scienza infusa o quale chissà quale grande titolo e dottorato per capire io dico ma santo e benedettissimo eterno cielo per noi che siamo grandi rappresentarci rammentarci comprendere che nell'ostia consacrata c'è Dio da Dio luce da luce Dio vero da Dio vero generato non creato della stessa sostanza del Padre in corpo sangue anima divinità nella totalità della specie in ciascun frammento che è in essa penso che ci voglia un po' no? un atto tra le condizioni per fare una buona comunione anche queste chi lo sa sono andate alla fine dentro il museo un tempo si diceva io quando sento dire un tempo si diceva mi si accappona la pelle considerare pensare colui che è che si va a ricevere sapete quale sia una tecnica che fa la comunione l'ho detto all'omelia delle prime comunioni recentemente essere in grazia di Dio essere a digiuni per il tempo che ho scritto dalla legge ecclesiastico oggi è rimasto una striminzita ora e pensare e considerare che si va a ricevere che dobbiamo rifarlo sempre perché non stai andando a prendere una caramella d'accordo? ma io dico se tu hai un ragazzino gli insegni a prendere la sacrostia in mano quello è pure un ragazzino tu dici un adulto vabbè l'adulto basta che fai l'atto di fede a parte il fatto che che questo sia il modo più consono per ricevere Dio dentro la mia testolina ma io sarò stupido sarò no? o sono stupido o sono uno che vive in altri tempi vive in una chiesa in altri tempi sono ancorato al passato e pazienza toccherà abbiate compassione di questo povero disgraziato e pregate per lui no? io dico ma è il modo più consono per ma un bambino ma come fa che già un bambino non ha credo gli attributi certo c'è l'innocenza che lo aiuta ma lo dì anche un pochino aiutare animali no? come fa prendendo l'ossia in mano ad essere aiutato un pochino a capire che quello è Dio e quindi certo questa è un'altra amenità ma io non è che mi stupisco tanto capite il senso in cui lo sto dicendo perché se quel povero ragazzino impara che quella è una cosetta così che lo tratti come un lecca lecca nella sua coscienza non ben formata non è niente chiaro che in sé è un atto che fa inorridire d'accordo? lo spero ma se tu in qualche modo non lo aiuti e anzi l'insegnamento che gli dai come dire anziché aiutarlo a capire chi è colui che va a ricevere come dire lo sminuisce in qualche modo dopo la tratterà come leccarecca di che cosa vogliamo scandalizzarci? spero che si capisca il senso in cui sto dicendo queste cose che non si fraintenda la familiarità non va bene non è quella buona amicizia quel rapporto filiale che nella consapevolezza cioè è come un tempo una volta i rapporti tra figlio e padre non era mica come oggi ma voi pensate che una volta un figlio poteva permettersi il padre gli dice di fare una cosa no non ho capito bene l'ultima sillaba cioè pur essendoci un bel rapporto ma il padre dice ma io ho conosciuto persone che ci sedevamo a tavola fino a quando non si alzava mio padre ma nessuno poteva alzarsi dalla sedia questo non è il terrore o no è normale perché il padre dentro una famiglia certamente è un padre non un despota o un padrone ma è anche la figura rappresentativa dell'autorità o no non si tratta tuo padre come tratti il compagnetto di classe non si manda a quel paese tuo padre e dopo che magari la pura mandata a quel paese dice poverino che ho fatto perché dici così a papà che t'ho fatto poverino perché dici a papà che t'ho fatto capite no cioè se un papà fa così è la fine è la fine però che ci sia una papà che fanno così io lo so perché li ho visti e sentiti non è che lo so perché me l'hanno raccontato capite il famoso proverbio la confidenza è la madre della mala creanza la qualificazione dei rapporti anche oltre le stupidaggini dei preti ah quello è uno di noi è uno di voi in che senso è chiaro che uno sacerdote è un essere umano un'amica un angelo del cielo o l'incarnazione del verbo ma è un sacerdote un uomo di Dio non è uno di noi ed ecco le solide poi menate chiamiamole così dei modernisti ah ecco qua il fariseo ah la forma la forma non serve a niente anzi donna ipsa io lo chiamo per nome io gli do del tuo che problema c'è lui è come noi i rapporti la comunità le cose la fratellanza a proposito di vivere la vita non è che noi ci siamo entrati dentro il cervello questi mantra che oggi sono i mantra taciti io li chiamo no cioè o tu sei sintonizzato sui mantra taciti oppure appena dici pio oh succede il fin di mondo succede guardate che oggi sono una caterva di mantra taciti se tu non dici niente o non fai niente che ti contraddice bene prova a fare qualche cosa che gli dica vedi che succede a proposito di tornare sul discorso di vivere la vita propria in base alle scelte fatte e in base a quelle che io reputo significativo importante giusto sbagliato che sia ero ottimista nel fare due capitoli qui non riusciamo mai a finire il primo comunque andiamo all'ultima parte ma che ha oggi quello chiede Bartolomeo taci che Simone di Giorno non senta evitiamo questioni non avveleniamo Simone così felice con il suo bambino ribatte un altro apostolo no ribatte Gesù sì maestro ma non sta bene glielo dirò è giovane Natanaele vedete Gesù come cerca di spegnere i pochi anche tu lo fosti sì ma non deve mancarti di rispetto senza volere alza la voce accorre Pietro che c'è chi manca di rispetto il nuovo discepolo guarda Giovanni di Endoro che si è discretamente ritirato quando ha capito che Gesù corrageva l'apostolo e che sta parlando con Giacomo d'Alfeo e Simone Zerote neanche per idea è rispettoso come una fanciulla ah bene se no era in pericolo il suo occhio sembra Pietro che parla allora allora è Giuda già sta senti Simone non potresti occuparti del tuo piccolo me lo hai levato e non puoi occuparti di una conversazione amichevole fra me e Natanaele non ti pare che vuoi fare troppe cose Gesù sorride così tranquillo che Pietro resta incerto sul suo giudizio guarda Bartolomeo ma questo ha alzato il suo volto a cui vino a scrutare il cielo Pietro sente cadere il sospetto l'apparizione della città ormai vicino visibile in tutta la sua bellezza di colli di oliveti di case del tempio in specie questa vista che doveva essere sempre fonte di emozioni e d'orgoglio e di seriti finisce di distrarlo del tutto e qui altra piccola notazione vabbè l'avete già notata l'arte di Gesù che magari ne imparassimo anche noi di spegnere gli incendi e fare in modo che non divampino sul nascere no vedete la danaere gli dice ma sei stata lascia a perdere sei stato giovane pure tu no e a più dice ma c'è sto ragazzino no sta pressa a lui per pensare queste cose qui no quindi questa bella arte di cui ovviamente anche in questo Gesù è un gran maestro no ci sono piccoli dettagli non indifferenti però della vita comune da da cui trarre a mio avviso fecondo esempio è da ricordare imitare il sole ben caldo dell'aprile di giudea ha presto asciugato le pietre della via consolare ora le pozze d'acqua bisogna proprio cercarle gli apostoli si rassettano sul bordo della via riabbassano le vesti che siano rimborsate si lavano i piedi fangosi non chiaro l'uscello si aggiustano i capelli si drappeggiano nei mantelli e così fa Gesù vedo che tutti fanno così l'entrata a Gerusalemme doveva essere una cosa importante presentarsi alle mure in questo tempo di festa era come presentarsi con sovrano la città santa era la vera regina degli israeliti lo capisco bene quest'anno che posso notare su questa via consolare le turbe e il loro comportamento qui i cortè delle diverse famiglie si ordinano le donne tutte da loro gli uomini in altro gruppo i bambini con questo con quello ma tutti i sere nello stesso tempo sereni alcuni ripiegano il mantello il più usato ed estraggono un altro nuovo dalle sacche da viaggio o cambiano i sandali e poi l'andatura diviene solenne già ieratica in ogni gruppo c'è il solista che dà tono e gli inni vengono intonati i vecchi gloriosi inni di Davide e la gente si guarda con occhi più buoni come raddolciti dall'aver visto la casa di Dio e guarda questa casa santa enorme cubo di marmo sormontato dalle cupole d'oro messo come perla al centro del recinto imponente del tempio qui nella comitiva apostolica che si forma così davanti Gesù e Pietro aventi in mezzo il bambino dietro Simone l'iscariote Giovanni poi Andrea che ha forzato Giovanni di Endoro a mettersi fra lui e Giacomo di Zebedeo in quarta fila i due cugini del Signore con Matteo ultimi Tommaso con Filippo e Bartolomeo qui è Gesù che intona con la sua potente bellissima voce di un leggero tono baritonale fuso a renderlo più prezioso a vibrazioni tenorili e risponde Giude Scariota uno schietto tenore e Giovanni della voce limpida di chi è molto giovane ancora e le due voci baritonali dei cugini di Gesù e il quasi basso di Tommaso che è un baritono talmente profondo da non essere quasi più tale gli altri dotati di voci meno belle seguono in sordina il cuore pieno il coro pieno scusate di quelli che sono virtuosi tra loro i salmi sono quelli noti detti graduali i salmi dell'ingresso di Gerusalemme 121 122 123 124 i cosiddetti salmi graduali gradus significa gradini che si cantavano salendo l'ultimo tratto di strada verso Gerusalemme il piccolo Yahweh voce d'angelo fra le voci robuste degli uomini canta molto bene forse perché lo conosce meglio degli altri il salmo 121 mi sono rallegrato per quello che mi è stato detto andremo alla casa del Signore è veramente tutto luminoso di gioia nel visetto che solo pochi giorni prima era tanto triste ecco le mura ormai prossime ecco la porta dei pesci ecco le vie sovraffondate subito al Tempio con una prima preghiera e poi la pace nella pace di Dezemani la cena il riposo il viaggio verso Gerusalemme è compiuto ed è compiuta anche questa puntata in questo ultimo tratto è descrittivo non abbiamo molto da aggiungere però credo che quello su cui abbiamo meditato grazie alla sapienza di Giovanni di Endor sottolineata ed evidenziata da Gesù e alla superbia familiarità e un po' di arroganza di Giuda Iscari non lo possa bastare per questa catechesi Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga laudentur Iesus et Maria Dio vi benedica Dio vi benedica